In questo contratto fino ad ora già abbiamo ottenuto dei risultati come Movimento 5 Stelle importantissimi, il reddito di cittadinanza che non sia assistenzialismo, la flat tax equa che abbasserà le tasse alle imprese, ai cittadini, il carcere per gli evasori, per chi evade e ancora siamo riusciti ad ottenere il taglio delle pensioni d'oro, che le opere pubbliche con quello che abbiamo messo insieme in questo contratto non costino più il doppio, il triplo di quello che costano, la RAI, i vincoli europei che vanno rivisti. E come si fa a ironizzare su tutto questo? Più ci attaccano, più riceviamo attacchi da tutti e io più sono motivato perché vedo tanta paura in un certo establishment, tanta paura per il cambiamento. Ma chi ha paura del cambiamento oggi è il nostro nemico, non è il nostro amico. Se c'è chiarezza di programma sui temi fondamentali si parte. Quando inizio a smontare la legge Fornero? Quando inizio a togliere alcune accise sulla benzina? Quando cancello davvero spesometri e studi di settore non per finta come Renzi? Ecco, quanti clandestini riesco a espellere ogni mese, quante nuove carceri riesco a mettere in costruzione, quanti poliziotti e vigili del fuoco riesco ad assumere, a quante maestre e quanti insegnanti riesco a dare una risposta positiva nei primi mesi del governo, quanti vitalizi riesco a tagliare, quante scorte inutili riesco a tagliare, soprattutto quanto riesco a fare per il lavoro. Sarebbe folle mollare nel momento della verità. Se voi ci siete, io ci sono, se siamo convinti di essere nel giusto, non ci ferma nessuno. Buonasera, buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera Laura Castelli, dirigente del momento 5 Stelle, venuta qui dritta dal tavolo delle trattative, in cui era l'unica donna tra l'altro presente. Buonasera a Vilma Cusenza, direttore del momento 0, la Pietro Francesco Nero Betti, sera e giornista del periodo nazionale Giorno Carlino Nazione. Allora, ai nostri titoli, fatto l'accordo, manca ancora il Premier. Insomma, allo Stato, stasera a quest'ora, è un esponente del Movimento 5 Stelle. Non usciremo dall'euro, questa affermazione purtroppo un po' tardiva, perché oggi abbiamo preso un bel bagno sui mercati, che sarà un momento spaventato, poi le chiederemo il momento come è successo, come è venuta fuori quella famosa cifra. Accordo per sospendere i lavori della TAV. Noi abbiamo messo il punto interrogativo, ma lei che è una no TAV, diciamo, di vecchia scuola, ci confermerà, ci dirà se dovremmo toglierlo oppure no. Il taglio delle pensioni non coperte da contributi sopra i 5 mila euro. E ancora Berlusconi da Sofia, dove è riunito il Partito Popolare Europeo, dice per il governo grande preoccupazione in Europa. Poi ci occuperemo del Partito Democratico, scontro sul segretario e sul congresso. Le foto sono di Martina e di Renzi, come vedete, perché sono loro in qualche modo, avere delle opinioni diverse. E infine, approfittando del rapporto Istat annuale, scopriremo purtroppo che la crisi ci ha portato via un milione di operai e di artigiani. È cambiata veramente l'Italia. Allora, è fatta? Abbiamo lavorato in questi giorni, sono stati sei giorni, se non sbaglio, di un confronto, devo dire, anche molto bello e profondo, con dei colleghi di un'altra formazione politica. Abbiamo condiviso i punti con un unico obiettivo, quello di poter risolvere quei problemi che ogni forza politica ha in mente, che i cittadini gli hanno chiesto ed è per questo che siamo stati votati. Ed è stato un lavoro che ci ha permesso di mettere dentro i temi di sempre. Devo dire che non abbiamo trovato scontri, insomma è stato veramente un lavoro costruttivo, fatto anche, devo dire, con dei colleghi di molta esperienza. è stato anche personalmente costruttivo. E abbiamo messo dentro temi che stanno molto a cuore al Movimento 5 Stelle, l'acqua pubblica, fornero, pensioni, il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza. Abbiamo messo dentro le bonifiche. Adesso vedremo punto per punto, perché uguale bozze si inseguono, vediamo se quella che abbiamo noi è buona o non è buona. Allora, non ci possono essere più incidenti di percorso sul contratto? In che senso? Nel senso dei temi sui quali c'è una spaccatura e dice, vabbè, allora no, allora basta. Non ci sono state spaccature, ci sono state modalità di approfondirle e di inquadrarle in un modo piuttosto che in un altro. Devo dire che non ci sono state grandi divergenze. Abbiamo approfondito alcuni temi, ci sono delle sfumature diverse, se no non saremmo due scheramenti diversi. Però sul contratto diciamo che la versione definitiva è quella che più ci rappresenta e sulle quali ci sono davvero dei punti su cui siamo d'accordo per andare avanti. Siete d'accordo nel proporre al Presidente della Repubblica un esponente del Movimento 5 Stelle come Primo Ministro? Beh, io personalmente sì. No, personalmente. Nel tavolo avete raggiunto questo accordo? Il tavolo non ha parlato di questo, ha parlato di temi, perché come ci siamo detti, prima i temi e poi si sarebbe parlato di nomi. Questa cosa sembra superficiale, ma è ovvio, se non si è d'accordo sui temi è inutile parlare di nomi. Però Origliando ci pare di aver capito che sarà un esponente del Movimento 5 Stelle. Origliando, io mi fido ciecamente del mio collega Luigi Di Maio e sono sicura che in questo dialogo abbiano trovato una convergenza, me lo auguro. È verosimile anche che Matteo Salvini diventi il Ministro dell'Interno. Questa l'ha sentita, sì. Sempre cose di corridoio. Di corridoio. Giorgetti, sottosegretario della Presidente del Consiglio. Sempre voci di corridoio. Corridoio. All'economia chi va? 5 Stelle? Non si sa, non sappiamo ancora. Devo dire, noi veramente ci siamo concentrati a fare anche sul tema dell'economia, soprattutto sul tema dell'economia, grandi riflessioni, perché comunque è un tema delicato, su cui si dice tanto e si specula moltissimo. Quindi abbiamo voluto affrontarlo, nonostante siamo due forze che vengono additate come quelle che vogliono fare male al mercato, all'economia, assolutamente non è vero e abbiamo ponderato ogni proposta e quello che ce ne fa. Quella è una formazione economica. Posso chiedere a chi è saltato in mente di scrivere in una bozza, poi smentita, di chiedere a Draghi di azzerare 250 miliardi del debito pubblico italiano? Giusto così, uno scherzetto per far salire lo spread di 20 punti? No, allora guardi... Com'è nata quella storia? Quella bozza che in realtà non era una bozza di contratto, ma era un documento dentro il quale ci sono stati messi pezzi vari. E lei può immaginare... Ma che è venuto in mente? In cinque anni quanti lavori si fanno e quante cose... Beh, una cosa così non era mai uscita. Le posso garantire che non era mai uscita. Uno dice, Mario, scusa, 250 miliardi. No, c'è un tema, che è il tema del quantità di vising che finirà e che va affrontato perché è vero che ci sono dei titoli di Stato che oggi stanno nella pancia della Banca Centrale Europea e sui quali noi vorremmo, con il dialogo con Bruxelles e con gli altri paesi europei, accordare che questi vendano... Ti stanno nella pancia della Banca d'Italia, quindi, eh? Sì, anche, esatto, che vengano scomputati da quel famoso rapporto debito-pil. È una cosa che non sta nel cielo e in terra, questo l'avete... Insomma, immagino che ne abbiate preso atto. Abbiamo parlato... O davvero c'è qualcuno che pensa che si possa azzerare... Il prossimo governo dovrà affrontare un tema importante, che cosa succede quando Bruxelles smette di mettere questi soldi chiamati quantità di vising all'interno dell'economia dei paesi. Significa che c'è qualcuno dovrà camminare con le proprie gambe. Esattamente, quindi noi lo vogliamo fare in maniera... Adesso entraremo punto su punto. La vostra impressione... De l'accordo. La vostra impressione generale? La impressione generale è che la bozza successiva, quella pubblicata ieri, sia sicuramente più potabile. Con molti punti interrogativi ancora, a cominciare per l'appunto dalla TAV, della Torino-Lione, che per esempio è, lei nota come sostenitrice, diciamo, dell'interruzione della Torino-Lione. Ecco, però, io mi chiedo come la Lega possa accettare... Poi lo chiederemo perché poi verrà Nicola Molteni, esponente della Lega, ed è presidente della Commissione Speciale, chiederemo a lui. Come possa accettare un progetto così importante, visto che comunque anche il documento parla di un rilancio dell'alta velocità, e comunque del progetto delle ferrovie... Viermann, i dettagli del programma li vediamo poi cartello per cartello. Volevo un'opinione generale sulla conclusione dell'accordo. Sicuramente una domanda molto semplice. A fronte di una riduzione, di un aumento delle spese, vedi la Fornero, e di una riduzione delle entrate, vedi la flat tax, io mi chiedo come pensate appunto di non indebitare questo Paese in modo esponenziale. Allora, la cura per noi è quella di riprendere alcune voci di bilancio che io le posso assicurare a Vespa che in questi cinque anni abbiamo trovato dei capitoli che veramente si possono gestire molto meglio, si possono tagliare. Lo stesso Ministero dell'Economia mette in un fascicolo i sussiedi ambientali dannosi, sono 17 miliardi, che la stessa Europa ci chiede di convertire in settori diversi da quelli ambientalmente dannosi. Questo vuol dire fare investimenti per riconvertire i settori industriali. Allora parla di bonifiche, come si fa? Si prendono questi soldi e si convertono per fare investimenti. Gli investimenti, me lo insegna lei, creano posti di lavoro, i posti di lavoro creano consumo e il consumo crea PIL. Dopodiché c'è una gestione di spending review, che è quella che negli anni abbiamo visto fare i commissari, ma che molte forze politiche che stavano al governo non hanno potuto fare perché non avevano le mani libere. Noi siamo certi di poterlo fare perché abbiamo le mani libere. Dopodiché, questo non toglie che per quello che secondo noi è utile per creare PIL davvero, si possa dialogare con Bruxelles per chiedere di diventare un pelino in più di deficit. Ma le assicuro che le proposte che noi faremo a Bruxelles sono molto più strutturate, creeranno effetti migliori e soprattutto... Un pelino che significa? Stare dentro il 3% o sfondare il 3%? Ho detto un pelino perché vorrei vedere prima che cosa c'è dentro il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le posso parlare di molti soldi dentro i derivati che si possono risparmiare, le posso parlare delle polizie dormienti che per legge dovrebbero essere utilizzate per coprire i danni dei risparmiatori e oggi non vengono invece utilizzati per questo scopo. Ci sono molti soldi all'interno del bilancio del Stato. A me curiosisce molto questo itere un po' particolare della non individuazione ancora di un Presidente del Consiglio. Cioè si è steso un programma, ci siamo accordati senza sapere chi è il Presidente del Consiglio. Non è un fatto secondario o procedurale. L'articolo 95 della Costituzione, la politica è cambiata ma le regole sono rimaste. Questo dice che il Presidente del Consiglio è responsabile della linea politica del Governo, dà l'indirizzo e in qualche modo, espressamente detto, che ne mantiene l'indirizzo politico. Ecco, è veramente singolare che si faccia un contratto e non ci sia chi è che deve comandare. Quindi avremo, quando sarà che si chiami Mario, Antonio, Giuseppe, un signore che arriva lì e ha già tutto preordinato da altri. Questo chiaramente... Se è un Presidente politico, no. Se fosse stato un tecnico, sì. Sicuramente. Perciò il Presidente della Repubblica ha chiesto, no, voglio un primo ministro politico. Certo, ma anche se fosse un politico o è Salvini o è Di Maio che hanno firmato questo contratto, se non è uno dei due è chiaramente uno squilibrio perché si trova comunque a dirigere una baracca che altri hanno determinato. Questo sarà chiaramente un problema. Prego? Vede, io credo che in un Paese incagliato in una legge elettorale che ha dato questo risultato il coraggio di proporre un metodo diverso per la prima volta in Italia come quello del contratto dà la forza... Un programma di governo come se ne sono stati fatti tanti in passato. Si chiamava programma ora si chiama contratto. E' differente. Mi sembra una gran novità. E' differente. E' un metodo assolutamente nuovo tant'è che c'è solo un Paese in Europa che lo utilizza e questo metodo prevede che delle forze politiche differenti che non sono andate al voto insieme con una coalizione tra l'altro questa legge elettorale non prevedeva neanche un programma comune per le coalizioni per esempio si metta a tavolino e decida quali sono i temi da portare avanti. DC e PSI l'hanno fatto in passato tante altre volte o quando si faceva il pentapartito insomma non è che è una cosa che ha inventato la luna. Il contratto con quelle due firme ha un valore grandissimo perché sarà il programma che porterà avanti chi viene individuato dai due leader politici per prendere. Allora, vediamo un momento con Antonio Polito vice direttore di Corriere della Sera il consueto diario della crisi. Sotto i colpi dei mercati finanziari allarmati dalla bozza di accordo che una manina traditrice ha spedito ieri alla stampa forse per far saltare tutto il governo 5 Stelle e Lega avanza licenzia il contratto nella sua forma quasi finale di 40 pagine ma sfoglia ancora la margherita del Premier questione cruciale ancora non risolta. Sono ore decisive per Di Maio e Salvini la rivelazione seppur subito smentita che al tavolo tecnico erano state considerate ipotesi fantasiose quanto pericolose come la richiesta alla BCE di cancellare 250 miliardi del debito italiano hanno spaventato gli investitori provocando un'impennata dello spread e un forte calo della borsa che ha segnato un record negativo in Europa. La bozza di programma riproponeva anche il tema dell'uscita dall'euro ma è stata accantonata dopo l'esame di Mattarella nell'incontro di lunedì infatti i due punti più controversi sono ora spariti dal contratto e il capo dello Stato ha fatto sapere che per lui vale solo il testo finale. La tempesta ha spinto comunque i due leader a imprimere una decisa accelerazione alla trattativa devono però ancora risolvere prima di tornare al Quirinale il problema più serio per la nascita del governo e cioè l'assenza finora di un candidato all'altezza del compito e soprattutto accettabile per il capo dello Stato cui spetta il potere di nomina. Sembra tramontare l'ipotesi della staffetta a Palazzo Chigi tra Di Maio e Salvini non funzionò neppure tra Demita e Craxi e poi richiede una legislatura di 5 anni cosa di cui oggi non si può davvero essere sicuri i due leader non escludono di restare fuori dal governo un tecnico terzo rischierebbe di essere solo un prestanome così l'attenzione si è spostata su nomi di parlamentari 5 stelle come Alfonso Bonafede ed Emilio Carelli ma l'impressione è che sono ancora lontani dal nome giusto resta fermo che il Viminale andrà alla Lega rivendicato da Salvini come il cardine di una politica dura contro l'immigrazione Allora andiamo a vedere in dettaglio il programma Economia Europa ed Euro superamento della regola di equilibrio di bilancio che rende possibile un'efficacia azione anticiclica dello Stato necessaria discussione tra tatti dell'Unione Europea e del quadro normativo principale questo significa superamento della regola di equilibrio di bilancio significa che voi volete fare deficit fondamentalmente Allora guardi in Europa c'è una regola che prevede il fatto che i paesi che sono in crisi devono essere aiutati dall'Europa mentre quelli che sono in salute dovrebbero aiutare il sistema europeo questo significa azioni anticicliche questa è la regola poi per mille ragioni per paesi come quelli della Germania e della Francia è successo altro noi vorremmo semplicemente ricordare che le regole europee sono che quando si è fondata l'Europa si è detto bisognerebbe avere azioni anticicliche cioè aiutare quei paesi che nei momenti di difficoltà hanno bisogno di rimettere a posto loro ci ricordano che abbiamo il debito più alto dopo la Grecia quindi questo lo sa e quindi questo è il ritornello che da Bruxelles però ci sono dei modi per lavorare sul debito pubblico certo che bisognerebbe evitare di svendere i gioielli di famiglia togliere gli asset strategici del paese e svenderli come è stato fatto tra l'altro senza neanche troppa intelligenza dico io oggi dopo aver visto che cosa è successo ad alcune situazioni comunque voi pensate di andare oltre il rapporto del 3% tra il deficit e il prodotto oltre il 3% io credo che insomma si possa fare molto bene stando sotto si possa fare molto molto bene soprattutto voi volete anche noi dovremmo essere l'1,9 cioè siamo all'1,8 quest'anno dovremmo essere all'0,8 alla fine di quest'anno quindi insomma stiamo approvando un DEF un documento di economia e finanza che parla dell'1,5 deficit PIL sa che cosa se si fanno gli investimenti giusti quelli che si chiamano ad alto moltiplicatore cioè si ricorda la famosa frase ogni euro investito ne torna 6 in cultura ecco se si fanno quegli investimenti lì soprattutto con altri moltiplicatori occupazionali i soldi rientrano nel circuito dell'economia è un punto di PIL in più sono 17 miliardi in più da spendere certo che se uno usa i bonus e queste cose qui no qui c'è scritto che volete ripensare compresa la politica monetaria unica cioè voi non avete rinunciato all'idea di uscire dall'euro no allora questa frase serve per dire che cosa ci sono delle distorsioni di una moneta unica fatta per paesi differenti e questa cosa la dicono tutti oggi la dice anche la Merkel la dice anche Macron è vero che una moneta unica in paesi molto differenti porta delle distorsioni questa frase qui vuol dire questo parliamo con l'Europa delle distorsioni che tanti paesi hanno la Germania una delle distorsioni che ha il surplus commerciale per esempio che crea delle distorsioni nel nostro paese perché crea problemi di crescita di PIL per esempio si tratta solo di ritornare a dialogare con Bruxelles e spiegare che siamo coscienti di questi meccanismi e sappiamo che le nostre politiche di investimento possono risollevare e mettere a posto questi problemi andiamo a vedere il fisco e qui veniamo alla flat tax introduzione di aliquote fisse con sistema di deduzioni per garantire progressività in armonia con i principi costituzionali nel senso che deve essere progressiva lei conferma che saranno due aliquote 15% e 20% e che per le società ci sarà soltanto un'aliquota fissa del 15% l'abbiamo scritta così perché credo che entrambi sia noi che la Lega vogliamo essere sicuri che si possa fare esattamente questo una cosa è certa è certo che bisogna ridurre la pressione fiscale che ridurre la pressione fiscale non è solo un costo ma è un'aiuto a quelle imprese a quelle famiglie che oggi d'accordo siete d'accordo voi dai 5 stelle 15-20% loro hanno proposto questo e voi siete d'accordo? in linea di massima sì bisognerà vedere i conti smaltimento dei debiti scritti a ruolo datati e difficilmente riscontibili condono no infatti c'è scritto forse non avete preso la frase il condono è la pace fiscale esclusa ogni finalità condonistica l'abbiamo scritto questo significa che c'è un problema molto grosso dentro quel sistema che è ancora equitalia cioè crediti inesigibili che non si porteranno mai più a casa perché? perché quelle persone lì stanno in una situazione economica talmente disastrosa che mai più riusciranno a pagare quei debiti si parla di saldo e stralcio quella roba lì non si riuscirà mai più ad incassare ed è giusto stralciarla come fa un'azienda privata peraltro chi ha lavorato in un'azienda privata lo sa questo è il recupero dei crediti però la pace la pace fiscale è un'altra cosa questo è un nome comunicativo che la Lega ha utilizzato in questi questo significa però favorire l'estinzione del debito saldo a stralcio dell'importo dovuto questo non si tratta delle cose incagliate significa che c'è tanta gente che è incontenziosa con il fisco e quindi voi venite incontro per una gigantesca rottamazione se non vogliamo usare la parolaccia con dono chiamiamo una gigantesca rottamazione no non si tratta di stralciamo tutto quello che non è pagato si tratta di capire se tu cittadino potevi pagarlo oppure no e chi è in difficoltà economica eccessiva quella roba non la pagherà mai più e quindi è giusto che si passa a stralciare e infatti abbiamo scritto esclusa ogni finalità condonistica perché non è nostra intenzione botte piene mogli ubriaca la lingua italiana è piena di parole che vogliono dire esattamente certe cose voi non avete capito che è un condono beh a parte un condono ma di fatto la sensazione che io ho è che ci sia una legittima e comprensibile voglia di chiudere questo accordo con la Lega anche accettando alcuni cavalli di battaglia vedi il condono vedi la flat tax che certamente sono lontani dal programma iniziale dei 5 Stelle questo ripeto è comprensibile però a mio avviso c'è l'esigenza di comporre due esigenze conflittuali cioè in realtà il programma di due governi di segno opposto perché mettere insieme la eredio cittadinanza che significa appunto un aumento della spesa dello Stato con la flat tax che è appunto ripeto la riduzione dell'entrata dello Stato è un programma di destra è un programma di sinistra in un governo che si annuncia il cocervo direbbe Berlusconi e che deve mettere insieme esigenze contrapposte io non credo che sia esattamente così la capisco però le posso anche dire che oggi fare il reddito di cittadinanza permette intanto ai pensioneri che vivono sotto la soglia di povertà di tornare ad avere almeno 780 euro ma poi in termini più ampi più economici significa che finalmente le persone che non sono in cerca di lavoro diventano disoccupati questo in termini europei per Bruxelles significa aumentare gli spazi finanziari impossibili per fare spesa si chiama calcolo del pil potenziale che cambia e aumenta più o meno di 15 miliardi la possibilità del paese di fare spesa questo non significa che non si spende però si può decidere di spendere in quelle cose che ripeto fanno posti di lavoro e fanno pil e andiamo al reddito di cittadinanza 780 euro mensili per persona singola modificato per nucleo familiare più numerosi lei conferma che si può arrivare a 1650 euro per un disoccupato con due figli? Sì abbiamo una grande connessione su questo tema a noi e la Lega che è quello di pensare al coefficiente familiare e ai carichi di famiglia cioè non pensare più il singolo con un reddito singolo ma pensare al nucleo familiare inteso come tale come coefficiente familiare la Francia lo fa da anni utilizzare un coefficiente familiare per identificare il peso reddituale di una famiglia e questa per noi per questo paese sarebbe davvero una cosa nuova cambia la visione cambia veramente la visione fiscale ecco però vede massimo tre proposti di lavoro nell'arco temporale di due anni allora noi abbiamo capito che il disoccupato prende da 780 euro a 1640 euro può prenderli per due anni all'interno di questi due anni lui può ricevere tre proposte di lavoro e può rifiutare fino a tre proposte di lavoro è così? allora qui effettivamente c'è stata una discussione perché nella nostra proposta c'è questo la riforma per i centri per l'impiego che è una cosa assolutamente necessaria oggi in questo paese non funzionano più tra l'altro hanno personale se non ricordo male nei CAF no? sì siccome no è preparatissimo bene quindi sa bene quanto non funzioni esattamente l'84% dell'assunzione avviene per amicizie personali e per conoscenze esattamente sono precari senza fare la riforma per i centri per l'impiego non si può fare reddito di cittadinanza quello che io ho tentato di dire a Di Maio in campagna elettorale in vano no vabbè ma questo è sempre anche nel testo di legge è così io non so se dopodiché questo centro per l'impiego propone fino a tre tre proposte se il cittadino disoccupato dice di no perde il privilegio ammettiamo che un signore dica oh senti io intanto mi piglio 780 euro 12006 eccetera mi fanno le proposte le rifiuto per due anni intanto mi sono pigliati i soldi beh se gliele fanno più di tre cioè se gliele fanno tre in meno di due anni se lo si sospende prima significa che questo signore che non ha nessuna intenzione di andarsela a lavorare prende questo stipendio senza nessuno questo non è possibile sa perché primo perché deve fare delle ore di volontariato all'interno della struttura pubblica secondo perché il centro per l'impiego le farà delle proposte ma il centro per l'impiego lei lo deve ristrutturare certo quanto tempo ci vuole per ristrutturarlo? in un anno almeno i nostri tecnici questo significa che il credito di cittadinanza prima di un anno non può funzionare non può partire non può partire noi abbiamo detto questo subito i centri per l'impiego dopodiché quando sappiamo che evitare che lunedì mattina arrivata scusi vorrei il modulo di questo siamo molto coscienti per un anno non se ne parla peraltro la riforma ai centri per l'impiego questo lo sa bene anche lei passa da una conferenza Stato-Regioni perché è competenza regionale io sono convinta che cose come queste che fanno bene a questo paese in bocca al lupo perché quando entrerete la burocrazia vedrete voi che cos'è però guardi io sono convinta che quando davvero si vogliono cambiare le cose anche ai funzionari e ai burocrati si può dire facciamole insieme sono assolutamente d'accordo 17 miliardi di anni e questa è la cifra corretta 2 miliardi di euro per il potenziamento dei centri per l'impiego andiamo avanti vediamo il prossimo il prossimo punto è l'immigrazione allora l'ammissibilità delle nuove di protezione internazionale deve venire nei paesi origini e transi in strutture che garantiscono la piena tutela dei diritti umani l'individuazione di sedi di permanenza temporane finalizzate al derimpato con almeno uno per ogni regione in accordo con la regione medesima con una capienza tale da garantire il trattenimento di tutti gli immigrati il cui ingresso e soggiorno sia regolare per esempio l'internazionale sul territorio nazionale tradotto se ho capito bene gli immigrati che arrivano qui vanno sostanzialmente in questa in questa prigione fondamentalmente che è un centro di identificazione ma da qua non possono uscire allora questo è un tema molto complicato il problema è possono uscire o non possono uscire perché se possono uscire giustamente se ne vanno se non possono uscire restano detenuti in attesa di essere identificati e auspicabilmente rimpatriati questo è il punto la chiave la chiave la chiave per noi e questo se lo ricorda perché l'abbiamo raccontato anche in campagna elettorale e c'è nel contratto aumentare quelle persone che fanno le pratiche delle richieste di asilo perché più ci metti per fare la pratica più queste persone stanno là anche l'Europa ci dice sbrigatevi esattamente quindi vengono moltiplicati questi centri di retenzione un termine brutto di accoglienza un termine troppo morbido insomma di trattenimento facciamola così fermo restando che ma possono uscire o non possono uscire questo non lo so come non lo sa ha scritto lei è stata a tavola fino a poco fa fino a stasera nel dettaglio beh quello che trovate scritto il problema è se questi possono uscire perché le sa bene che molta gente in certi paesi si irrita perché vede le persone che non fanno niente alla mattina alla sera io non credo che questo punto l'abbiamo scritto questo significa che si deciderà che si deciderà questo è un punto però piuttosto sensibile però per esempio sul business contro il business dell'immigrazione siamo assolutamente d'accordo tutti e due c'è un punto molto forte abbiamo trovato delle convergenze per quanto uno possa pensare che si sia molto distanti ma nessuno di noi ha voglia di proseguire il business dell'immigrazione che va sopra prima di proseguire vediamo se si riconosce nel ritratto le trattative tracciate da Daniele Di Marzo il contratto c'è è scritto e dal tavolo ormai chiuso è passato nelle mani dei due leader Di Maio e Salvini tocca a loro mettere ora il sigillo finale e sciogliere i punti del programma non del tutto definiti tra le parti ci sono alcuni nodi che ovviamente devono vedere Di Maio e Salvini e se anche questi pochi nodi venissero sciolti si parte 40 pagine 22 punti per stilare la roadmap del futuro governo un contratto scritto ma ancora non definitivo almeno su alcuni temi ritenuti centrali da entrambe le parti come immigrazione sicurezza Unione Europea e grandi opere 4-5 nodi politici da sciogliere prima di una firma finale Io e Salvini dovremmo dirimere alcune questioni quindi non è un contratto già esaustivo però abbiamo messo su gran parte del lavoro Ma sono tanti gli obiettivi centrati per i 5 Stelle Noi abbiamo portato a casa risultati incredibili l'acqua pubblica il reddito di cittadinanza il taglio dei costi della politica la riduzione del numero dei parlamentari nel contratto quindi è un grande tema che vogliamo affrontare insieme ci sono le riforme per le imprese ci sono interventi importantissimi che riguardano anche il gioco d'azzardo e la lotta al gioco d'azzardo e le patologie che nascono intorno al gioco d'azzardo io sono orgoglioso di questi risultati messi nel contratto dobbiamo rifinire alcune cose e chiudere tutto nelle prossime ore non sarà difficile la quadra sul contratto i due leader dovrebbero raggiungerla facilmente ci sono solo spigolatore da chiarire ci dicono il nodo vero è un altro quello della premiership con l'ipotesi staffetta che sembra ormai tramontata una rosa di nomi per Palazzo Chigi c'è al vaglio in queste ore ma al colle dicono i pentastellati porteremo un solo nome voglio dirvi anche che qualsiasi indiscrezione stiamo circolando staffette non staffette io premier Salvini premier sono tutte questioni che secondo me appartengono ai retroscene che in questo momento non corrispondono neanche alla verità qualsiasi nome stia girando secondo me è bruciato ma sarà politico ovviamente conferma questo tutti i nomi saranno politici perché saranno scelti da due forze politiche e non calate dall'alto e agli attivisti di Maio manda a dire di tenersi pronti nel weekend per riempire le piazze di gazebo e banchetti che informino i cittadini sui punti del contratto di governo tutti pronti per il voto online io credo che il contratto sia un contratto che non possa non piacere perché c'è dentro gran parte di quello che abbiamo detto in campagna elettorale quindi sarebbe assurdo secondo me però noi siamo fortemente legati alla nostra base come giusto che sia per un partito e quindi vogliamo che loro si esprimano ne terrete conto? certo certo che ne terremo conto allora superamento legge Fornero quota 100 la somma di età e dei contributi e raggiungimento dell'età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva opzione donna che permette alle autrici con 57-58 anni 35 di contributi andare in piacenza subito è così? su questo avete raggiunto l'accordo con la Liga? sì peraltro qui si è fatto tanto parlare anche di quanto costano e noi su questo siamo coscienti dei passi da fare uno dopo l'altro quota 100 si può fare molto rapidamente con una quota anche bassissima di denari e poi piano piano si procede verso la famosa quota 41 quindi per adesso quota 100 insomma il primo step si va fatta in maniera graduale e arriviamo ad una cosa che farà molto discutere e che la riguarda direttamente perché lei viene dai notav con riguardo la linea all'alta velocità Torino-Lione e l'applicazione dell'accordo ci impegniamo a sospendere i lavori esecutivi e ridiscutere completamente il progetto cioè bisogna sospendere i lavori sì abbiamo scritto così è un punto che comunque che comunque dibatteranno ancora Luigi Di Maio e Matteo Salvini perché le parti che trovate scritte in rosso comunque hanno bisogno dell'ultima parola però questo è ma sulle altre grandi opere pubbliche voi siete d'accordo che vada avanti tu volete bloccare tutto no no siamo convinti che su quelle su cui c'è dibattito si debba fare un'analisi costi-benefici guardi la prima cosa che ho fatto dopo anni in Val Susa il movimento Notav e la lotta Notav è quella di quando sono stata eletta cinque anni fa andare insieme ai miei colleghi al Ministero dei Trasporti e chiedere se c'era un'analisi costi-benefici di alcune opere la verità è che la politica non lo fa spesso l'analisi costi-benefici come andrebbe fatta in termini diciamo così privatistici nel senso di efficacia ed efficienza spesso non viene fatta e questo è notorio e secondo noi su alcune opere questo lavoro va fatto mi scusi ma ha senso sospendere lavori già in corso cioè dire abbiamo scherzato abbiamo speso un patrimonio e adesso diciamo basta guardi le posso dire che c'è un accordo Italia-Francia che qua è citato che ha un articolo all'interno del quale si dice che questa opera deve andare avanti solo se si hanno i soldi per fare le opere secondarie il ministro francese in questo momento è molto in dubbio su questa cosa perché se non si hanno i denari per fare le opere secondarie non si può fare neanche l'opera primaria e le assicuro che anche in Francia questo accordo che io mi ricordo benissimo quando l'abbiamo votato in Parlamento perché dentro aveva delle difficoltà oggi tra i tanti articoli ha anche questo ma nel 2018 mi scusi qual è l'obiezione vera che voi fate al proseguimento di un'opera così comunque strategica e importante per unire l'Italia e la Francia cioè un'obiezione concreta che è da spiegare ai cittadini per questo no a mio giudizio è insensato che anche la Francia la sta discutendo che anche la Francia non è convinta è un'opera utile o non è utile all'Italia questo è il punto del discorso gli italiani ma soprattutto essendo stata avviata qui non stiamo parlando di un progetto è stato avviato un pezzo che sarebbe il tunnel geognostico su questo guardi sono anni che lavoriamo su questi progetti questo punto qua giusto per sincerità e per correttezza questo è un punto di quelli per cui i due leader si vedranno e diranno ok questa cosa qua va bene così io le posso dire che quest'opera è inutile che è stata fatta per un pezzo piccolo che si chiama tunnel geognostico e anche la Francia ha molti dubbi perché in quell'accordo c'è proprio scritto quello che dicevo prima se non ci sono i soldi per l'opera secondaria non si fa l'opera non si realizza l'alta velocità tra l'Italia e la Francia cioè non è che sarà proprio per un tratto breve però c'è scritto ridiscuterne contemporaneamente il progetto perché io le assicuro che la storia del movimento è molto lunga e all'inizio quando si parlava di rifare la linea storica c'era un pezzo di quel paese di quel territorio che si chiedeva se era giusto o no e c'era molto più erano molto più d'accordo quando si diceva prendiamo la linea storica e utilizziamola ammoderniamola ma sono i lavori in corso questo mi fa impazzire il lavoro in corso l'interno del geognostico non è l'opera di per sé e poi guardi lì c'è scritto ridiscutere completamente il progetto ridiscutere vuol dire ridiscutere ridiscutere vuol dire che in questo paese una delle cose che io ho verificato in questi cinque anni è che non c'è strategia nazionale oggi manca tutta la strategia sui porti infatti è uno dei punti che abbiamo messo dentro manca la strategia sui trasporti via terra via mare via aria manca tutta la strategia e io ripeto la Francia che è un paese che spesso le persone più conservatrici prendono come esempio si sta interrogando se sia giusto andare avanti oppure no proprio per quell'accordo il nostro tempo è scaduto continueremo adesso a fare una verifica con il suo collega della Lega Nicola Molteni che è presidente della commissione speciale perché siccome non sa chi è maggioranza o chi è in opposizione il Parlamento è paralizzato funziona solo la commissione speciale e la preside l'onorevole Molteni all'onorevole Molteni